quanti piegamenti sulle braccia può fare un bboy? questo video è per tutti i bboys e per tutti quelli che dicono che i danceri non sono forti ora sono qui per dimostrare che siamo forti e che possiamo fare molti piegamenti quindi ragazzi questo video è per tutti i bboys e per tutti quelli che dicono che i ballerini non sono forti sono qui per dimostrarvi il contrario e voglio che commentare il mio video mi chiedete quanti push up che faccia perchè voglio sapere commentate il video dicendomi quanti push up riuscite a fare in modo che così poi in futuro vedremo i miglioramenti di ognuno voglio mi suggerire la prossima challenge vorrei che mi suggeriste una prossima challenge da fare ma sceglierò 3 commenti io sceglierò la challenge per leggere i commenti quindi voi sceglierete il prossimo video lo vabbiamo per questa challenge cominciamo questa sfida li cominciamo questa sfida Gli amici? pembi riusci telefono Grazie a tutti 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 Grazie a tutti